Hello ragazzi, saluto a tutti, benvenuti con questo nuovo video Siamo su un gioco particolare Si chiama Mega Quiz Gaming E' un gioco per... per... Telefono... Non so chi di voi si ricorda Tanto tempo fa, andava di moda Il genere di quei giochi, sempre per telefono Appunto, 4 immagini in una parola O... quiz logo Quindi del tipo, loro vi davano delle immagini E voi dovevate indovinare che Tipo di immagini fossero, o che luogo fosse Certe marche famose Auto, andava di tutto, andava Ne ho trovato uno per i giochi Quindi, prima già sbirciando qua E... ho trovato che possiamo inserire un nome Sembra che vi abbia trovato un giocatore coraggioso Decidiamo il tuo nome, eroe Ma pensaci bene, potresti fare la storia Quindi un nome importante Gianduiotto Ok, non... perché non c'ho i cioccolatini qua davanti con me Non, assolutamente Benvenuto, buona fortuna, il tuo nome è Gianduiotto E' scritto bene, per favore, comprensiamo che Gianduiotto è corretto E' correttissimo Ok, c'è la... la Hall of Fame Quindi tutta la roba dei più forti, robe varie A noi non interessa, voglio giocare Iniziamo, direi, con la pratica Giusto per vedere un po' come funziona Come vedete L'immagine in alto Le scritte in basso E le lettere disponibili sotto Naturalmente questo qua è il Professor Layton Quindi noi andiamo a cercare le lettere Che corrispondono appunto a Professor Layton E Sbam E questo è corretto Vabbè, la pratica in teoria Lui passa dai giochi più facili Ai giochi più difficili Questo è Slender Come vedete non vi dà neanche tutto Cioè non è che vi dice quel personaggio Ok, vi dà anche indizi del gioco Per esempio appunto la pagina dello Slender Non lo Slender intero Questo è Yandere Simulator Addirittura c'è Yandere Simulator Che non è un gioco... Cioè, ma ha spopolato un sacco Ma non è così tanto famoso, insomma Questo qua Ecco, questo qua Già potrebbe essere complicato Per chi non lo conosce Se io non lo conosco Ma mi pare sia Skyrim Forse Skyrim Ok Forse ho provato a indovinare Ma purtroppo non ho mai giocato a Skyrim Ecco appunto Questa cosa serve anche a me Per farvi conoscere meglio Che tipi di giochi magari conosco Poi dato che non mi vengono tutti in me Cioè, tipo questo qua Non lo so C'è una tizia bionda con un orecchino O è un tizio biondo con l'orecchino Che potrebbe essere benissimo Quello di Eldorado Ma non ci sta Non c'entra un cacchio Come facciamo? Proviamo a chiedere gli indizi Ecco Non so neanche gli indizi Ne abbiamo nove Abbiamo nove indizi Quindi non buttiamoli che sia caso Questo purtroppo non lo conosco Quindi direi di andare avanti al prossimo Questo è ARMS Ok Molto più aggiornato di quanto pensassi sto gioco Questo qua lo conosciamo tutti Angry Birds Che tra l'altro non l'ho mai portato sul canale Volevo portarlo Addirittura Cuphead Mi sta stupendo Pensavo fosse un gioco più vecchio Però mi sta stupendo Oh mio dio no Questo non lo conosco Questo qua ragazzi Non lo conosco proprio Niente Addirittura Fortnite Allora O mi sta mettendo davvero Tutti quelli più facili Che si azzeccano subito Perché se Oddio questo cos'è? Quanto è lunga la scritta? Aiuto Potrei avere dei problemi C'ha quattro Quattro cose diverse C'è un robot Che sembra il gigante Ah no Shadow of the Colossus Gran gioco Se posso dire Gran gioco Non l'ho mai giocato L'ho visto giocare E' un gran gioco Ecco Questa non so che cosa sia Mi verrebbe in mente Sing Sing Star forse Oh che culo Non so chi sia quella Questo è Halo Naturalmente Se volete giocarci Lo trovate Nelle app store L'iner app Play store Quello che è Questo cosa rosa Oh mio dio Ma cos'è? Questo robot rosa Ah the binding of Isaac È un cumulo rosa Che cacchè? Isaac Con due Ae Ok Va bene Come stai? Ti stai divertendo Vado tu ci Sì ok Vai tranquillo No Bellissimo C'è un po' Che mungo Faccio Oh mio dio Nintendo Labo Ma davvero? Come è aggiornato Oh Questo lo conosco Aspetta Porca vacca C'ho un lapsus Adesso non mi viene in mente Come cacchè si chiama Dio ma l'hanno messo Anche adesso Street Fighter Aspetta Street Fighter Oh mio dio Quante ne so Quante Voi sareste lì Tipo adesso A mangiarvi le mani A dire che è quello Questo qua è Clash Royale Ok E tra l'altro In teoria ci ho smesso Anche di giocare Da un po' di tempo E ho visto che Comunque è passato Anche un po' di moda Questo è Minecraft Con i maledetti Creeper Infami Questo Questo non lo conosco Prossimo Vabbè questo Metroid Ok Bellissimo Ma quanti cacchi ce ne sono Pikmin Addirittura Poi quando trovo Le saghe Nintendo Mi gaso un sacco Cos'è sta cacca qua Ah è Po Addirittura Po 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 Ok Po Un gioco che andava Tantissimo tempo fa Questo è Yo-Kai Watch Che non sembra Ma in Giappone È un gioco che va Va A tantissimo Oh mio dio Cos'è questo C'è un pollo C'è un pollo Ok Non so che cacchio sia Sto pollo L'ho già visto Forse da qualche parte Ma non so davvero Che cacchio sia Vi ripeto Se sapete Magari dei giochi che salto Scrivetemelo Nei commenti Questo è Cut the rope Grandissimo gioco Sono tutti giochi che andavano Tempo fa Anche questo qua Per Per tutti per telefono Com'è che si chiamava Joyride Jetpack Oddio C'è un C'è un lapse Joyride Jetpack Joyride Jetpack Joyride Meno che non è Joyjet Pack Redride Questo No questo Non lo conosco Proprio Non lo conosco Ma proprio per niente Ok Ne abbiamo lasciati 5 O mi scrivete Guarda la tizia Il tizio biondo È di questo gioco Oppure mi scrivete Il primo che hai lasciato È di questo gioco E robe varie Va bene Abbiamo finito la pratica Come vedete Adesso si sbloccano Diverse cose Che sono la categoria Protagonisti La categoria oggetti Personaggi selezionabili Simboli Cellulare Ok non so che cosa sia Personaggi Ancora Marche Armi Ci sono proprio Tutte le categorie E ogni categoria C'ha Delle diverse immagini Questa appunto La categoria dei protagonisti Tipo questo È Non lo conosco Partiamo bene Cacchio Il primo livello Che cacchio di personaggio è Da che gioco esce Non lo so Probabilmente è un gioco Anche che conosco Ma non me lo ricordo Ok andiamo Andiamo bene proprio Questo qua è un gioco Che è uscito tempo fa E adesso stanno facendo il 2 Per PS4 Un gioco che mi piaceva un sacco Però non mi ricordo Come si chiama Re Che tipo lui è un Lui è un personaggio È sto personaggio Che è un gomitolo rosso Un Ravel Un Ravel Un Ravel Ok mi ricordavo qualcosa del genere Che adesso sta uscendo il 2 Per PS4 È spettacolare Si gioca anche in 2 Robbe varie Questo qua Ok C'ha tre cose C'è una tizia Con l'arco Una tizia con l'arco Mi viene forse in mente Horizon Zero Dawn Però non mi ricordavo La tizia c'aveva i capelli I capelli arancioni Lì dai Rossi Così Non me lo ricordavo Questo qua cos'è Questo qua è un gioco Per PS4 Sono sicuro PS3 o PS4 Forse PS3 Sono sicuro di averlo già visto da qualche parte Tipo le medagliette Un gioco Dovrebbe essere un gioco con Con molta trama Con molta narrazione Se non ricordo male Anche a scelta multiple La parola porca vacca Non mi ricordo i nomi È assurdo Perché non è The Last of Us Oddio Bayon Bayon 2 Souls Forse Oh mio dio Ci ho azzeccato davvero Grande Bayon 2 Souls Questo qua Vabbè questo qua Se non lo conosco Mi sparo Non capisco più che altro Cosa ci faccia qua Anche se no In realtà ci sono i giochi Di Sword Art Online Però pensavo fosse una cosa Dedicata proprio ai giochi Giochi Questo qua ovviamente Little Big Planet Grandissimo gioco Questo per me è uno dei giochi Più belli Che sia stato creato Per PS3 Little Big Planet Ecco questo qua È difficile Cos'è Mi sembra Minecraft Ma Minecraft Ok il fatto che ci stia E che c'è la roba Mi fa preoccupare Però che cacchio Cos'è Minecraft Boh Cioè È a cubetti Ditemi se ne è conoscito Un altro cubetti Non lo so Non mi viene in mente E lascio Minecraft Oddio cos'è Un tizio pazzo Che Fa la marionetta Ok C'è un 6 Non lo conosco Purtroppo non lo conosco Ciao Questo Mai visto Proprio mai Non mi chiedete dove Ma l'ho visto Dovrebbe essere Aspetta come si chiamava Hall of Hall of Night Credo Ok perfetto No questo l'ho visto da qualche parte Non mi ricordo dove Questo qua che cacchio è No questo non lo conosco Ok non lo conosco Ma mi interessa sapere Che gioco sia Quindi se lo sapete Scrivetemelo Perché lo voglio sapere Sembra figo Sembra figo Già solo dalla tizia Questo qua non lo conosco Proprio Non so che cacchio tu sia Questo Oddio Questo è quello dello zombie L'ho già sentito Non mi ricordo dove C'era Ed Ben and Ed Ben and Ed Ben Ben and Ed Ben and Ed Ed No non c'è Ah si invece c'è la D Ok perfetto Non la trovavo Ho detto Magari era un'altra cosa Questa è baionetta Aspetta Mi avete chiesto anche di portarla Non so se voglio Vorrei prima scoprire che gioco Che tipo di gioco è Prima di portarlo Questo è No aspetta Non è The Walking Dead No è The Last of Us Che non ho mai giocato Vorrei giocarlo Perché Cioè i giochi per PS3 Barra PS4 Con la trama Narrativi Quelle robe Mi piacerebbe giocarle tutti Questo non lo conosco proprio Non so chi tu sia Questo Questo è ancora mero Proprio Questo Il tizio Ah Watch Dogs Dogs È il gioco in cui dovevi Tipo andare a carare La roba Vare Ok Questo tizio Non so chi sia Mi ricorda Il tizio di guerre stellari Da piccolo Ma non conosco il gioco Questo è Star 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 Starve Don't starve Vorrei portare un episodio Magari più avanti In futuro Un episodio Lo voglio portare No questo qua Non lo conosco Mi sembra che esca Da un film della Disney Aspetta Ma che si chiamava Ah no Era un altro gioco Quello era Life is Strange Non c'entro un cacchio Ma questo cos'è Un tizio legato Da masochista Con Cos'è sto roba Un albero Un tizio legato a un albero Con un elmo Ok No non lo conosco per niente Mi dispiace Mi sembrava Megaman dal caso Ma non è Megaman Non c'entro un cacchio E c'è un 9 Quindi mi sa che qua ci va il 9 Ma questo Questo cos'è Oh mio dio ragazzi Si sta diventando troppo difficile Aiuto Li sta saltando tutti in panico Questo è Life is Strange invece Questo è Life is Strange Sta anche Non che io l'abbia mai giocato Ho visto però So cos'è Beh questo è assolutamente The Walking Dead Gran gioco Che ho giocato solo in parte Purtroppo Questo Oddio Chi è sto tizio L'ho già visto da qualche parte Ma non mi ricordo chi sia Oddio Non so perché mi viene in mente Solo Alone in the Dark Ma non ci sta Non so Non so che gioco sia Che cos'è sta roba Chi è Una tizia con i capelli rosi Con la spada Ma chi è Ma da dove esce Purtroppo non lo conosco Ma da dove esce tutta sta gente No era l'ultimo No ho finito Mannaggia Raga ne abbiamo saltati un sacco La cosa si è fatta molto più difficile Di quanto pensassi Sto pensando se me ne viene in mente qualcuno Ma non mi viene in mente nessuno Tranne forse questo Che forse ho capito cos'è Minecraft Story mod Ok ok ho capito qual è Che non è altro che praticamente Una mod di Minecraft Che te lo fa diventare Non so se è proprio un videogioco a parte Penso se è un videogioco a parte Che ti fa giocare a Minecraft Però con una trama dietro assurda Scelte multiple Robe varie Dovrebbe essere una cosa fighissima Però non l'ho mai giocato Non mi veniva in mente Perché non Ce l'ho visto una volta Non mi ricordo neanche da chi Questo purtroppo Non so cosa sia 06 Guinness Però abbiamo avuto Abbastanza punti Da sbloccare il prossimo coso Quindi Quello degli oggetti Possiamo provare a farlo Però ho scoperto che mi sono dilungato Forse un po' troppo Per cui penso che per adesso Termineremo qua l'episodio Fatemi sapere se volete altri episodi Se volete che continui Perché adesso inizia la cosa Oggetti Personaggi selezionabili Quindi ci sono altre categorie varie Mi piacerebbe portarlo Anche con voi Per cui Se sapete E ripeto Sapete Non andate a cercare le soluzioni A chi è questo qua Soluzione completa Di questo gioco Quindi se lo sapete Bene Se non lo sapete Non andate a cercarlo Piuttosto sto senza Non è un problema Scrivete tutto Nei commenti Fatemi sapere se appunto Volete un altro episodio Per il momento Io termino qua Noi ci vediamo Un prossimo video Qui da Lannulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti